Serale Amici 2018 Squadra bianca e blu, svelati i concorrenti ufficiali Amici 2018 Anticipazioni sul Serale, i concorrenti delle due squadre di questanno Ad Amici 2018 è tempo di pensare al Serale e a quelle che saranno le sfide tra i concorrenti delle due squadre che verranno ammesso alla fase più importante dello show di Maria De Filippi, al termine della quale scopriremo il nome del vincitore assoluto di questa diciassettesima edizione Questo pomeriggio è stata registrata la fatidica puntata del Serale di Amici 2018 che vedremo in onda questo sabato 31 marzo su Canale 5, la quale si può dire che sarà la più importante di questa stagione Le anticipazioni sul Serale di Amici 2018 Nel corso dello speciale di Amici 2018 registrato oggi pomeriggio, infatti, abbiamo visto che sono stati svelati i nomi dei concorrenti ammessi alla fase Serale e cè stata anche la suddivisione nelle due squadre, quella blu e quella bianca Per quest'anno la De Filippi ha scelto di mantenere la suddivisione tra le due squadre e al Serale anche se cambierà notevolmente il meccanismo della trasmissione, dato che quest'anno non ci saranno più i direttori artistici al timone delle due squadre e cambierà anche il ruolo della commissione Insomma, un Serale ricco di novità che potrà contare anche su grandi ospiti, le anticipazioni di queste ore rivelano che per la prima puntata in onda sabato 7 aprile su Canale 5, la De Filippi ha arruolato Laura Pausini come quest'star Sarà la cantante romagnola, anche in promozione con il suo ultimo album di inediti dal titolo Fatti sentire ad essere la prima super ospite di questo serale che si metterà in gioco duettando con i concorrenti che sono stati ammessi alla fase più importante dello show Ecco la squadra bianca e blu di Amici 2018 Ma chi sono appunto gli allievi della scuola di Amici 2018 che sono passati alla fase serale dello show? Dalla registrazione di oggi apprendiamo che ci sono stati un bel po' di concorrenti eliminati dalla trasmissione ma al tempo stesso c'è stata anche la formazione delle due squadre di quest'edizione E allora iniziamo subito con la presentazione della squadra blu che quest'anno risulta composta da, Biondo, Carmen, Einar, Matteo, Loren, Sephora e Brian Per quanto riguarda, invece, la squadra bianca del serale di Amici 2018 le anticipazioni ufficiali rivelano che gli allievi ammessi sono, Emma, Irama, Luca C, Daniele, Filippo, Valentina e Zic Sono questi, quindi, i 14 allievi che hanno passato il turno e sono stati ammessi alla fase serale dello show, tutti gli altri sono stati fatti fuori dalla gara ad un passo dal sogno Grazie a tutti